Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare della struttura sociale denominata clan e delle relazioni che questa struttura ha con l'agopuntura tradizionale cinese funzionalmente a capire quali conflitti mettono poi dopo la persona in quel disagio da cui può derivare malattia. Io mi chiamo Fabio Farello e mi occupo di medicina naturale, aiuto i miei pazienti a mantenere o recuperare la salute attraverso sistemi di cura non invasivi. In agopuntura gli organi sono ordinati per orbite funzionali secondo il loro ruolo all'interno di quella relazione sociale che denominata clan. Alle orbite funzionali è dedicato un apposito video che poi potete trovare nella playlist e di cui vi consiglio la revisione. Il clan è un'organizzazione dei rapporti umani denotata da specializzazione e condivisione dei compiti necessari per sopravvivere. Il clan è stato un vantaggio rilevante per gli uomini nella lotta per la sopravvivenza perché il clan valorizza tutti i talenti disponibili riducendo in tal modo il dispendio di energia. Quando si suddividono i compiti si risparmia notevolmente rispetto all'ipotesi che ognuno per conto proprio li svolga tutti. Il clan si basa dunque su una specializzazione e successiva condivisione secondo predisposizione di organi e tessuti a svolgere un compito. Questo è il concetto poi di orbita funzionale ovvero il contenitore di tutti i tessuti capacità biologiche funzioni che servono a espletare un preciso ruolo sociale. Quali sono le funzioni nel clan degli umani? Sono cinque come cinque elementi della tradizione cinese. Nel legno troviamo il cacciatore, nel fuoco lo sciamano, nel terra il raccoglitore, nel metallo la tutela del nido e nell'acqua il costruttore. Questa è la organizzazione nel clan dei primati. Ovviamente questo tipo di organizzazione scivola fino in epoca moderna perché il clan è tuttora attivo. Ovviamente i ruoli non sono più quelli originali ma sono scivolati in equivalenti strutturali presenti nel mondo moderno. Il legno, il fuoco, il terra, il metallo e l'acqua sono cinque elementi della agopuntura che non vengono solo utilizzati all'interno del clan ma vengono utilizzati a ogni livello di osservazione del fenomeno. Dal microcosmo fino al macrocosmo si tratta di una struttura frattalica che si ripropone. A noi interessa comunque in particolare questa analogia tra legno cacciatore, fuoco sciamano e via dicendo perché poi pone i ruoli sociali in relazione a precisi tessuti che possono essere per esempio ammalati nella persona che stiamo osservando. Vediamo il volto di un cacciatore, vediamo i suoi occhi e vediamo anche molto spesso presenti in qualsiasi cultura, il tatuaggio di tipo striato, anche perché uno dei tessuti fondamentali del cacciatore è la muscolatura e il tatuaggio striato presente, ripeto, in tantissime manifestazioni umane ha un significato molto preciso. La mia muscolatura è particolarmente imponente. Guardate adesso lo sguardo di uno sciamano, è uno sguardo assolutamente dolce, lo sciamano non è mai un capo territoriale, è un capo di tipo spirituale. Questo qui è una persona buonissima, dunque non si occupa mai né di politica né di guerra né di difesa né di attacco. La sua preoccupazione è che tutti siano uniti e che possono avere uno sguardo verso il trascendente. Questo è un raccoglitore, è colui che nel clan ha scoperto che una delle fonti caloriche alternative al corre appresso a un animale per cacciarlo è raccogliere ciò che la natura offre. Dalla raccolta spontanea si scivola successivamente nell'evoluzione umana nella coltivazione e nell'allevamento di bestiame. Il cacciatore, precedentemente visto, ha una attitudine al nomadismo e il raccoglitore invece è estanziale perché la terra coltivata richiede cura, richiede amore, richiede costanza e perseveranza. Richiede anche molto equilibrio. L'altra funzione nel clan è la tutela del nido. Qualcuno nel clan si deve occupare non solo di produrre la discendenza ma soprattutto di accudirla. Oltre all'accudimento della discendenza c'è l'accudimento anche del luogo in cui la discendenza cresce e viene protetta. La protezione del nido è un compito importantissimo soprattutto quando l'umanità ha numeri critici e dunque una qualsiasi calamità tende a produrre la sua estinzione. Dunque la tutela del nido è rilevantissima. Qui ho messo la slide di una donna. La funzione della tutela del nido come tutte le precedenti è attuata sia da donne che da uomini perché non si tratta di una funzione espressa dai genitali ma da allocazioni cerebrali che consentono di avere talento per precisi comportamenti. Dunque esistono cacciatori uomini e cacciatori donne e esistono anche uomini che si occupano molto efficacemente della tutela del nido. La difesa del nido a livello di predazione è affidata ovviamente a questa a questa funzione nel clan ed è un compito estremamente importante. Infine abbiamo il costruttore nel clan. Costui è colui che sviluppa tecnologia nei confronti dei vari compiti che l'umanità deve affrontare per far proseguire la linea evolutiva e per non estinguersi. Questo è colui che scopre nel tempo il significato importantissimo del fuoco nel Pleistocene. Trova la più importante scoperta tecnologica proprio nella produzione, nel contenimento, nell'uso del fuoco per proteggere, per cucinare, per ridurre la mortalità infantile, la mortalità per freddo, la mortalità per predazione. Successivamente, attraverso sempre l'applicazione di razionalità, sviluppa armi per la difesa, mentre in un primo momento dal predatore ci si difende a mani nude, per opera del costruttore a un certo punto si dispone dell'arco oppure si dispone della lancia, si può costruire una palafitta andando sempre più a strutturare una difesa tecnologica nel rapporto con l'habitat e tutte le sue insidie. Ovviamente il costruttore è il più razionale di tutti gli elementi del clan e anche però quello che ha maggiore paura. La tecnologia che gli sviluppa è pertanto paura divenuta densa. Ed ecco i tessuti che corrispondono a queste cinque funzioni nel clan. Al cacciatore competono in modo particolare l'occhio, le unghie, il fegato, la vescica biliare, tendini e muscoli, le articolazioni, l'utero, l'organi di riproduzione, il sistema immunitario e a livello odontoiatico gli corrispondono molto particolarmente i canini che sono i denti strappacarne, quelli col quale il predatore strappa la carne dal corpo della vittina per nutrirsene. Le funzioni dello sciamano invece si esplicano con altri tessuti. Sono molto importanti le ghiandole endocrine. Non sono poche le tradizioni spirituali che pongono una relazione evidente tra la capacità di trascendenza e l'equilibrio delle secrezioni endocrine. Sono in tal senso pertinenza della funzione sciamanico anche l'ipofisi, l'ipotalomo, che sono il telecomando o le luoghi del cervello che pongono le nostre ghiandole endocrine in una situazione di retroazione funzionale a equilibrarle. Nella funzione dello sciamano troviamo l'intestino tenue che non è soltanto il luogo in cui avviene il processo digestivo, avviene una cosa molto molto più rilevante a livello spirituale. Nell'intestino tenue facciamo l'accettazione di biodiversità. Quando un panino diventa noi stessi avvengono complessi meccanismi di tipo immunitario che consentono alla biodiversità di diventare noi stessi. Questo è complesso a livello immunitario ed è altrettanto complesso a livello spirituale. Accettare la biodiversità è un'operazione sia fisica e la fa il sistema immunitario sia mentale e spirituale e se ne occupa ovviamente nel clan, primariamente lo sciamano. All'interno delle tessuti che competono lo sciamano troviamo anche la circolazione venusa, arteriosa, linfatica. Attraverso la circolazione noi diventiamo organismo e individuo. Non a caso quando parliamo di linea di sangue ci riferiamo a questo tipo di significato più profondo che va ben oltre la pompa. Attraverso la circolazione noi diventiamo uno e lo scivolamento nel clan è che quando un clan costruisce e conquista un territorio prima o poi dovrà unificarlo attraverso le strade. Così come la circolazione ci rende uno all'interno di un corpo, un territorio conquistato diventa appartenente a un certo clan attraverso la costruzione delle strade. Attraverso queste strade il clan farà procedere le sue truppe per la difesa, corrispondono al sistema dei globuli bianchi che fanno la difesa di un organismo e attraverso le stesse strade arrivano altrettanto i nutrienti, dunque i globuli rossi che portano per esempio l'ossigeno. Così come gli organi all'interno di un corpo altrettanto il clan fa al suo esterno. Ecco perché il cuore pompa e la circolazione stanno insieme all'intestino tenue. Fanno parte anche dei tessuti dello sciamano gli odontoni ottavi superiori inferiori che vengono chiamati non a caso i denti del giudizio all'interno del clan, è proprio lo sciamano al quale ci si rivolge per avere il giudizio. E infine non è un caso che troviamo tra gli organi che competono allo sciamano l'orecchio perché in tutte le tradizioni spirituali la voce è udita, non è altro senso che veicola il rapporto col trascendente. Il trascendente generalmente è udito a livello religioso è la voce di Dio, a livello spirituale è la voce dello spirito, a livello biologico è la voce del padre, che il padre biologico è percepito dal bambino nella pancia della madre attraverso un primo contatto che è di tipo acustico. Di conseguenza si consiglia durante la gravidanza che il padre canti o parli attraverso la pancia della mamma perché questo qui consente quel contatto che poi rimarrà poi per tutta la vita. Dunque ecco il motivo per cui abbiamo orecchio all'interno dei tessuti che competono allo sciamano. Andiamo a vedere i tessuti e le funzioni che competono al raccoglitore. Qui troviamo la milza, il pancreas, lo stomaco, l'esofago, la cavità orale, il seno, il tessuto onettivale che corrisponde alla matrice, la lingua, le labbra. E a livello odontoiatrico abbiamo i quarti, i quinti inferiori e i sesti, i settimi superiori. Ovvio che lo stomaco sia un tessuto che corrisponde al raccoglitore ma altrettanto anche il pancreas che produce gli enzimi che dovranno consentire l'acquisizione del volo alimentare. Interessantissimo nella tradizione cinese la analogia tra seno e stomaco. Mette in evidenza come secondo questa disciplina nutrire l'altro o nutrire stesso sono gestiti da un'unica allogazione celebrale. Il cervello dell'essere umano a un livello più profondo non distingue nutrirsi da nutrire l'altro. Vediamo i tessuti che corrispondono alla tutela del nido e troviamo la pelle, il polmone, il naso, tutto il percorso dalla narice fino all'alveolo, quindi la mucosa nasale, faringe, laringe, bronchi, bronchioli, fino a arrivare infine all'alveolo polmonare. Tutto questo percorso è gestito dal polmone e poi abbiamo anche il colono. A livello odontoiatrico c'è una corrispondenza con i denti sesti, gli odontoni, sesti, i settimi inferiori e quarti, i quinti superiori. Osserviamo una certa corrispondenza armonica tra la funzione del polmone e quella del colon. Il polmone prende qualcosa di sottile, di aereo e lo introduce dentro valorizzandolo a livello energetico, prende l'ossigeno e lo porta dentro l'organismo attraverso successivamente il sangue. Il colon fa l'esatto contrario e se volete corrispondente. Esternalizza il residuo non assimilabile del volo alimentare, dunque il polmone porta qualcosa di sottile dentro per valorizzarlo, il colon porta qualcosa di solido fuori perché non si può più utilizzare. Questa funzione all'interno del corpo umano è altrettanto gestita o analogicamente gestita da chi si occupa della tutela del nido, di nuovo sottolineando come i rapporti di senso all'interno del nostro corpo siano gli stessi rapporti di senso all'esterno del nostro corpo. Chi infatti nel clan si occupa della tutela del nido la mattina apre le finestre e fa entrare l'ossigeno nell'abitazione o nel nido e prende la pattumiera e la porta di fuori. Il bolo non assimilabile viene esternalizzato e il sottile assimilabile viene interiorizzato. Quando andiamo a vedere i tessuti che corrispondono al costruttore troviamo la vescica urinaria, il rene, il tutto il percorso dal glomerulo fino all'uretra, gli sfinteri per feci urine, i capelli, il sistema nervoso centrale e periferico, tutto il dna attraverso la somma dei nuclei cellulari, la produzione di gameti maschili e femminili, l'ossa e i midolli, la produzione di sangue e a livello di odontoni troviamo gli incisivi superiori e inferiori. Questo gruppo di tessuti forse è il più dissimile o forse il meno aspettato perché troviamo primariamente qua dentro il cervello il sistema nervoso centrale e tutte le sue funzioni e tutti i nervi. È ovvio che chi deve utilizzare come contributo al clan tecnologia, costui dovrà avere un gran bel funzionamento a livello celebrale. Per quanto riguarda invece la questione degli sfinteri e dei feci urini è noto che chi patisce paura possa perdere il controllo di quest'ultimi. La relazione che c'è tra il costruttore e la paura è enorme. Il costruttore sublima la propria paura in tecnologia, culmina la difesa da fenomeni in natura che possono estinguerlo attraverso una difesa tecnologica. Dunque la tecnologia nel costruttore è paura diventata materia difesa densa. Qua dentro oltre che il cervello abbiamo tutti i nuclei cellulari e soprattutto alla produzione di gameti sia maschili che femminili. Questo perché in una visione agopunturale degli organi il gamete è un cervello futuro. Dunque noi abbiamo un cervello della cellula che sono la somma di tutti i nuclei cellulari, il DNA. Abbiamo un cervello individuale che è il sistema nervoso centrale e abbiamo un cervello futuro che è il gamete. È quella spora che noi lanciamo che produrrà eventualmente un altro cervello in seguito. A sottolineare il rapporto che c'è tra il costruttore e la paura gli incisivi. Gli incisivi sono nel nostro immaginario il dente della paura. Non a caso noi utilizziamo a livello metaforico un animale in particolare per descrivere la paura che è il coniglio. Ebbene il coniglio ha dei incisivi imponenti così tanti che il veterinario spesso e volentieri è chiamato a tagliarli per evitare che la crescita di questo dente possa addirittura perforare al povero animale il palato. Dunque incisivi e paura hanno un loro rapporto molto diretto. E infine per quanto riguarda il percorso dal glomerulo all'uretra è ovvio che tutta la parte di escrezione non è soltanto pulizia dell'organismo ma è anche limite territoriale. Cioè la difesa di un territorio a livello di mammifero è fatta attraverso il deposito di urine al bordo del territorio stesso. Vediamo questo comportamento nei felini in modo molto particolare però anche il nostro cane quando viene portato a fare la passeggiata non urina il suo quantitativo al primo albero ma preferisce depositare un quid di urine su tutto il percorso della passeggiata stessa. Questo per delimitare il limite perché quello è il punto in cui bisogna difendere se stessi il proprio territorio e proprio clan da quella che può essere la predazione altrui. Il limite del territorio è una delle funzioni biologiche della produzione delle urine oltre quella di eliminare un carico tossico e veicolato dalle urine stesse. Bene il clan funziona attraverso la condivisione dei talenti e esalta il principio della cooperazione di differenze biologiche. Chi ha i gruppi tessulari molto ben espressi e che sono all'interno di quelli che abbiamo appena indicato potrà meglio nel clan procedere a eseguire quelle funzioni che sono raggruppate in cacciatore, sciamano, raccoglitore, tutela del nido e costruttore. Dunque quando qualcuno per genetica, per storia, per vocazione ha la possibilità di esprimere bene una di queste funzioni questo lo fa a favore degli altri condividendo il suo talento. Questo comporta un notevole risparmio di tipo energetico, comporta anche conflitti. Quando eseguo il mio talento posso avere successo o meno a seconda delle difficoltà che incontro. Se incontro una difficoltà e dunque vado in conflitto con il mio talento, saranno gli organi dell'orbita che abbiamo appena descritto a pagare le conseguenze. Quindi i conflitti tra clan e conflitti nel clan possono avere una relazione con la malattia e scivolano fino ai giorni d'oggi interferendo con la salute del singolo, scivolano in equivalenti di quelli che erano i conflitti originali. Proviamo comunque per quanto riguarda il gruppo dei tessuti che abbiamo visto per il cacciatore chiaramente dei conflitti di caccia. Sono riuscito, non sono riuscito a portare a casa una preda, sono riuscito a espandere o non a espandere il mio territorio, sono riuscito a difendere o meno il territorio conquistato. Sono possibili conflitti di caccia con gli scivolamenti. Lo sciamano soffre primariamente i conflitti di disgregazione. Il suo obiettivo primario è che tutti siano uno. Dunque lo sciamano soffre quando un clan si disgrega. Questo ovviamente all'interno di un mondo moderno scivola in tutti i fenomeni in cui c'è una scissione, un allontanamento, una disgregazione di un'unità precedentemente costituita. Il raccoglitore ha conflitti di acquisizione. È riuscito ad acquisire o non acquisire un bene che primariamente è ingerito. Successivamente potrebbe anche essere qualche cosa che serve per acquistare ciò che io successivamente ingerisco. La funzione della tutela del nido ovviamente va in conflitto quando il nido è minacciato. E infine il costruttore si occupa primariamente di conflitti di sopravvivenza. Dicevamo la tecnologia è uno degli strumenti più importanti con il quale il costruttore fa fronte all'esigenza di sopravvivere. Dunque le malattie al di là di una loro organicità che nessuno contesta, anzi questa viene solo che sottolineata da questa visione agopunturale, le malattie possono essere poste in relazione a specifiche categorie conflittuali. Questo ci consente una bidirezionalità dell'indagine. Se io sono sicuro di aver patito un conflitto di disgregazione e voglio fare prevenzione andrò a vedere primariamente i tessuti che appartengono allo sciamano. Al contrario se ho già un dato ecografico, tomografico, un'analisi del sangue che mostra una lesione dei tessuti dello sciamano, posso andarmi a cercare, se non lo so, quale conflitto di disgregazione ho precedentemente patito. Queste possibili categorie conflittuali entrano in risonanza con campi emozionali precisi. I campi emozionali sono stati ben descritti in un altro video di cui vi invito a fruire della visione attraverso la playlist sul canale. Però i conflitti del cacciatore in generalmente esprimono uno squilibrio nella collera, i conflitti dello sciamano uno squilibrio nel campo emozionale della gioia, i conflitti del raccoglitore si esprimono in riflessione, i conflitti della tutela del nido in tristezza e i conflitti del costruttore in paura. Quando parliamo di campi emozionali il termine non è scelto a caso perché questi campi hanno una forma toroidale, il toroide è una specie di ciambella, che sta intorno al corpo umano per cui possono essere partecipati da chi vicino a tale corpo sta e hanno un basculamento che va da normoespressione a distraespressione del campo stesso. Tutto il complesso basculamento dei campi emozionali ha poi una relazione col tipo di tessuto e col tipo di lesione di quel tessuto che il singolo malato esprime. Dunque un campo emozionale disarmonico interferisce con le malattie ed è il punto di congiunzione che c'è tra conflitto e tessuto. La soppressione di un proprio talento può altrettanto interferire con la malattia. Secondo questa visione della copontura se noi siamo depositari di un talento particolare il nostro scopo interiore è quello di esprimerlo per metterlo a disposizione del clan. Talvolta l'espressione del proprio talento non è possibile. Questa condizione di sofferenza può essere anche molto importante. Dunque la copontura ci consente una comprensione espansa soprattutto trina del malato e della sua malattia. Il fenomeno malattia viene osservato a tre livelli. C'è l'evento clinico così come lo descrive la medicina convenzionale ovvero abbiamo la lesione di una funzione o di un tessuto o di un organo e la possiamo misurare, la possiamo indagare attraverso strumenti. L'ecografia, la TAC, l'esami del sangue, l'istologia possono consentirci di definire la malattia nella sua fisicità. Questa fisicità però corrisponde a una precisa alterazione di un preciso campo emozionale che si può alterare esagerando o diminuendo eccessivamente la propria estensione toroidale. A questo modus di esprimere l'emozione corrisponde una precisa categoria conflittuale. Dunque quando si lavora in acopuntura la descrizione della malattia intesa come fatto fisico si estende alla comprensione del malato stesso inteso come un elemento trino che si esprime a livello mentale, a livello emozionale fisico. La precisione con la quale l'agopuntura descrive queste fini modalità della vita stessa è notevole consentendo una estensione, un'espansione dell'attività del medico ma anche dell'attività cognitiva e coscienziale della singola persona. Dunque è molto importante studiare l'agopuntura non solo per il medico e la pratica ma è importante perché dona la conoscenza di un funzionamento biologico della vita stessa che non nega affatto quello più materico e chimico ma lo amplifica estendendone i rapporti con piani più sottili e non per questo meno validi nell'osservazione che sono i campi emozionali e i conflitti patiti a livello mentale. Sono arrivato con questo alla fine del video di oggi, spero vi sia piaciuto, vi consiglio di iscrivervi al canale e lasciare un like, sarete in tal modo informati su ogni successiva pubblicazione di video. In merito al video di oggi è raccomandata la visione anche del video sui campi emozionali e sulle orbite funzionali che integrano totalmente i tre piani che abbiamo descritto. Bene, grazie della visione e spero di ricontattarvi presto. Arrivederci!